Qui siamo nel cuore del famoso mercato delle pulci di Torino, qui siamo al balun. Sì, ci sono! Sto arrivando! Sto facendo un video per Mark Baird YouTube. Guardate quante belle cose antiche o etniche o particolari, artistiche, di grande valore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E queste qua sono solo alcune delle vie di questa zona di Borgodora, dove c'è uno dei mercati dell'antiquariato e delle pulci, tra i più antichi d'Europa e tra i più grandi d'Europa e alcuni azzardano dire anche al mondo. Io mi allontano solo di qualche metro. La famiglia, la cuore del mezzo, la cuore del mezzo, la cuore del mezzo. La famiglia, la cuore del mezzo. La famiglia, la cuore del mezzo, la cuore del mezzo. La cuore del mezzo. Grazie. Grazie.